Io guardavo le figurine a quell'epoca, Vittorio, io facevo le panini, le figurine panine. È una funzione amorosa inevitabile. Perfino Giletti si faceva a Sega a 13 anni, secondo me, e non era autopedofilia. Allora, Vittorio, ti ricordi che arrivava Postal Market? Il famoso Postal Market, non vorrei cadere in basso, c'erano quelle pagine. Le mutande da signora, ma li inserì.